Il Terzo Polo presenta il programma oggi a Roma, la conferenza stampa di Calenda. Assente Matteo Renzi, ma non è una strategia precisa e leader di azione. E adesso in Calabria parte la corsa alle candidature. La truffa dello stato teocratico antartico, terreni venduti al Polo Sud, finti sgravi fiscali, 12 arresti, cittadinanza in vendita per cifre tra i 200 e i 1000 euro, patenti false per superare i controlli di polizia, un sistema che avrebbe fruttato 400.000 euro, quello scoperto dalla procura di Catanzaro. Mettevano a rischio la salute dei clienti, sequestrata oltre una tonnellata di pesce a scilla, denuncia e 6.000 euro di multa per il proprietario di Due Lidi. Le cucine in un capannone, senza autorizzazioni e abbattitore. Le carceri dimenticate, proteste e suicidi, sintomi di un sistema al collasso. Ieri l'incendio scoppiato nel carcere minorile di Catanzaro. Alcuni detenuti costretti in ospedale. Ogni anno si registrano 11.000 eventi critici. Appuntamento con l'altro Corriere DG. Buonasera dalla redazione da Fabio Benincasa. L'apertura di oggi è dedicata alla politica con Calenda, leader di azione che insieme ad alcuni esponenti di Italia Viva, assente Matteo Renzi. Quest'oggi ha presentato il programma e ci sono ovviamente tanti spunti di riflessione, ma soprattutto dopo oggi parte ufficialmente la corsa alle candidature del Terzo Polo anche in Calabria. I motori sono accesi anche se si aspetta il via libera definitivo da Roma per avere le idee chiare prima di chiudere tutte le caselle. Il Terzo Polo, fondato sull'alleanza azione di Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, ha avviato le grandi manovre anche in Calabria. A Roma questa mattina Calenda ha presentato il programma della coalizione, dando il via ufficiale al confronto che si aprirà anche sui territori per restilare liste e candidature. All'interno di azione di Italia Viva sono in tanti gli ex PD che hanno già trovato spazio e riparo in passato e probabilmente adesso troveranno anche una collocazione nelle liste per le politiche. I posti di capilista negli uni nominali sarebbero già stati definiti. Il senatore uscente e coordinatore regionale di Italia Viva Ernesto Magorno dovrebbe guidare il listino per Monte Citorio. Il coordinatore regionale di azione Fabio Scionti, quello per Palazzo Madama. Date per certe anche le presenze del sindaco facente funzione di Reggio Calabria Carmelo Versace, dell'ex deputato Democrat Brunello Censore e dell'altro sindaco facente funzione della città metropolitana Paolo Brunetti. E ancora l'ex grillina Federica Dieni. Insomma il terzo polo è in campo, le lancette corrono e il tempo per allestire una squadra competitiva è risicato, ma Galendiani e Renziani sostengono che anche in Calabria ci sarà da fare i conti con loro. In casa PD invece ci sono rinunce, se vogliamo anche clamorose, un po' di mal di pancia. Intanto la parlamentare uscente Enza Bruno Bossio ha rinunciato al collegio uninominale di Cosenza, restando nel listino proporzionale, lasciando spazio al neosegretario della Federazione Provinciale dei Dem Cosentini, Vittorio Pecoraro. Dall'altra parte invece c'è chi come Carlo Guccione ha ottenuto la candidatura nel listino proporzionale, ma si dice anche contrariato rispetto a questa decisione del partito, che accetta, si candiderà, ma dice Guccione non mi aspettavo di ritrovarmi al terzo posto. Non sempre al posto giusto, in campo sì, ma con qualche remora. Potrebbe sintetizzarsi così la corsa al Parlamento di alcuni candidati del PD. In Calabria Carlo Guccione ha accettato il terzo posto nel listino proporzionale dei Dem per la Camera dei Deputati, dopo Nico Stumpo ed Enza Bruno Bossio. Una scelta non facile, per la quale lo stesso ex consigliere regionale non ha nascosto l'amarezza di aver subito un torto. Combatterò senza risparmiarmi in questa difficile campagna elettorale da militante e candidato, sottolinea Guccione, che per la causa si sacrificò ben due volte. La prima nel 2016 accettando di candidarsi a sindaco sicuro di uscirne sconfitto contro Mario Occhiuto, cosa che poi effettivamente avvenne. La seconda rinunciando al mandato a Palazzo Campanella in cambio di rassicurazioni romane sul listino bloccato all'uninominale. Una candidatura oggi saltata e che ha spinto Guccione ad accontentarsi, si fa per dire, di un apposticino nel proporzionale. Chi ha deciso di rinunciare al posto blindato invece è Enza Bruno Bossio. La parlamentare uscente del PD rinuncia alla candidatura nel collegio uninominale di Cosenza alla Camera, lasciando spazio al neosegretario provinciale del PD, Bruzio Vittorio Pecoraro. La scelta della Bruno Bossio sarebbe motivata dall'esigenza avvertita dalla parlamentare DEM di ampliare la partecipazione alla competizione elettorale con la presenza di un giovane dirigente come Pecoraro e di rafforzare in questo modo l'unità del partito. Scelte che per ora non hanno i crismi dell'ufficialità, ma che a breve potrebbero rappresentare delle vere sorprese nel partito di Letta. C'è chi dice sì ed è l'ex procuratore di Reggio Calabria Federico Caffiero Derao che ha accettato la Corte del Movimento 5 Stelle e si candiderà proprio con il partito del duo Conte Grillo perché, dice, da esponente della società civile potrò continuare a lavorare per il Paese per battere criminalità e corruzione, lo dice in una lunga intervista alla Repubblica. Tutti i partiti, dichiara Derao, dovrebbero avvalersi di competenze e di specifiche esperienze che hanno operato concretamente nel contrasto alle mafie, al terrorismo e al sistema della corruzione. Certo, dice il magistrato, a patto che lo stesso magistrato poi non torni a svolgere funzioni giuristizionali. Lasciamo la pagina dedicata alla politica. Passiamo alla cronaca con un'operazione conclusa dalla DDA di Catanzaro, la truffa dello Stato teocratico antartico, terreni venduti al Polo Sud con sgravi fiscali. 12 persone sono state arrestate, un sistema che avrebbe fruttato 400 mila euro. Questo, insomma, quanto scoperto fino a questo momento dalla Procura di Catanzaro. L'isola che non c'è è il nome dell'operazione che questa mattina ha portato all'esecuzione da parte della DIGOS di Catanzaro di 12 arresti domiciliari, oltre a un'ordinanza di applicazione dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria emessi dal GIP del Tribunale del Capoluogo. Associazione a delinquere, truffa, fabbricazione e possesso di documenti falsi validi per l'espatrio e riciclaggio. Questi reati contestati agli indagati coinvolti in un'inchiesta avviata il 7 aprile dello scorso anno dopo la perquisizione di un immobile catanzaro che costituiva la sede diplomatica dello Stato teocratico antartico di San Giorgio, ovviamente inesistente. Gli indagati avrebbero comunque creato istituzioni relativi ministeri, una gazzetta ufficiale, siti internet e soprattutto il confezionamento di documenti di identità anche validi per l'espatrio. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero indotto in errore oltre 700 persone residenti in tutto il Paese attraverso l'acquisizione della cittadinanza dell'inesistente Stato, dietro pagamento di una somma di denaro variabile tra i 200 e i 1000 euro. In almeno due casi è poi emersa la vendita di terreni in Antartide con annesso titolo nobiliare e avrebbero inchiamerato dai cittadini antartici un'ulteriore somma di denaro pro capite proponendo l'acquisto di un'isola in Grecia per dare una concreta territorialità allo Stato. In almeno un caso poi è emerso l'utilizzo di una patente di guida dello Stato antartico per superare un controllo stradale di polizia. I proventi illeciti acquisiti, quantificati in un importo superiore ai 400 mila euro, sarebbero stati poi oggetto di successive condotte di riciclaggio attraverso un conto estero situato in territorio maltese dove avrebbe sede una rappresentanza dello Stato inesistente. È stata prorogata di altri sei mesi l'amministrazione giudiziaria nei confronti della società Caronte Tourist S.p.A. che gestisce il servizio di traghettamento sullo stretto di Messina. Lo ha deciso la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e dei sostituti procuratori della DDA Stefano Musolino e Walter Ignazitto. L'amministrazione giudiziaria è stata disposta nel gennaio 2021. Adesso vi parliamo delle carceri dimenticate. Proteste e suicidi sono sintomi evidenti di un sistema che ha il collasso. Ieri sera intorno alle 23 un incendio è stato appiccato all'interno del carcere minorile di Catanzaro dagli stessi detenuti che hanno bruciato alcune lenzuole, alcuni materassi per protesta ma si contano quasi ogni giorno i suicidi nei nostri istituti penitenziari e in più poi ci sono ovviamente le aggressioni anche quelle all'ordine del giorno nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria. Mentre i partiti e i movimenti sono impegnatissimi nella composizione delle liste, nella scelta dei fedelissimi da blindare nei listini, nelle sovraffollate carceri italiane si continua a morire ed in alcuni casi la protesta rischia di trasformarsi in tragedia. Ne è un esempio quanto accaduto ieri sera nel carcere minorile di Catanzaro dove alcuni detenuti hanno incendiato i materassi provocando un incendio per il quale si è reso necessario l'immediato intervento dei vigili del fuoco. La protesta ha costretto alle cure alcuni detenuti raggiunti dal fumo e trasportati in ospedale. I claim, spesso sterili sulla legalità, si sciolgono dinanzi al numero dei suicidi nelle carceri italiane registrati nei primi otto mesi del 2022. Le morti per suicidio rappresentano il 38,2% delle morti in carcere, mentre la media europea è del 26%, dice Rita Bernardini, in membro del Consiglio Generale del Partito Radicale. Mentre scrivo, continua, siamo arrivati a 52 uomini e donne che in cella si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno. La violenza, le aggressioni, gli incendi, i tentativi di suicidio. Tra minori e adulti registriamo ogni anno circa 11.000 eventi critici. Il sistema è degenerato, confessa Giovan Battista Durante, segretario generale aggiunto del SAP e il sindacato autonomo di pulizia penitenziaria. All'altro Corriere, Durante, analizza le ragioni del collasso. Una politica gestionale che non è rispondente alle esigenze. Hanno fatto alcune riforme che hanno completamente stabilizzato il sistema penitenziario. Il primo è stato il passaggio alle ASL. Noi oggi non abbiamo un sistema sanitario adeguato all'interno delle carceri. L'altra riforma è stata quella delle celle aperte, della vigilanza dinamica, fatta in maniera scriteriata e non secondo un criterio di meritocrazia. Comunque, qualsiasi cosa facciano, rimangono sempre aperti. E nelle ultime ore, durante l'attività di monitoraggio della costa e dei depuratori, una squadra della Regione Calabria ha rilevato e certificato la presenza di uno scarico anomalo. Il caso è già stato segnalato alla Procura della Repubblica, alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri e alla Capitaneria di Porto. E ovviamente al comune di Fuscaldo, dove è stato rintracciato. È stato lo stesso governatore della Calabria, Roberto Chiuto, sul suo profilo Facebook a segnalare l'ennesimo scarico anomalo. Anche un nostro lettore, come vediamo nelle immagini, nella tarda mattinata di oggi aveva inviato alla nostra redazione un video segnalando la presenza in mare di una lunghissima scia di colore giallastro. Giallastro, purtroppo, dobbiamo dirlo, sono tanti video e le foto che documentano una condizione difficile, soprattutto nel tratto cosentino del mar Tirreno. Veniamo adesso invece all'assunzione dei medici cubani in Calabria. La notizia è di ieri, l'abbiamo data in apertura del nostro Tg serale, però oggi vi diamo qualche informazione in più che riguarda il tipo di contratto che stipuleranno questi medici e anche delle novità che riguardano il costo per la Regione. E poi segnaliamo anche alcune sollecitazioni che arrivano dalle associazioni, dall'ordine dei medici che ha sollevato qualche perplessità, definiamola così, sulla decisione del governatore Occhiuto. Vediamo. La premessa è quella raccontata dal governatore Roberto Occhiuto nel video che ha annunciato l'arrivo in Calabria di un contingente fino a 497 di medici da Cuba per ridare ossigeno al sistema sanitario regionale. Ai numeri del fabbisogno si affianca una dinamica che peggiora il quadro complessivo. Sono i bandi andati a vuoto che Occhiuto considera la premessa per il patto con la sanità cubana. Saranno 497 i medici reclutabili al regime e che a partire da settembre raggiungeranno i presidi regionali. Ciò che invece si ricava dalla lettura dell'accordo quadro di cooperazione con la Società dei Medici Cubani per la fornitura di servizi medici e sanitari è che per ogni medico la Regione Calabria corrisponderà a un corrispettivo mensile onnicomprensivo pari a 3.500 euro, compenso che sarà corrisposto a cadenza trimestrale. A ciascun operatore sanitario che presterà servizio presso le aziende sanitarie nazionali l'importo forfettario netto mensile sarà di 1.200 euro a copertura delle spese di mantenimento. Sarà sempre la cittadella a farsi carico dei costi di viaggio Italia Cuba, due andata a ritorno all'anno e delle spese di alloggio, nonché dei costi sia per la formazione integrativa che nella visita medica effettuata dal medico competente individuato dalla Regione Calabria. Per ciascun medico dunque la Regione prevede un budget di 4.700 euro al netto delle spese di alloggio. Se si dovesse arrivare ad utilizzare effettivamente i 497 medici, l'esborso sarebbe di oltre 2,3 milioni di euro al mese e in teoria circa 28 milioni all'anno, sempre nelle ipotesi di un utilizzo a pieno organico. Per la sanità calabrese serve una risposta strutturale. Prima di ricorrere a professionisti cubani è necessario provare a trovare risorse interne. Penso ai pensionati, oltre che agli specializzanti. È la riflessione del Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, sull'accordo firmato dal Governatore della Calabria occhiuto per l'assunzione a tempo determinato di circa 500 medici provenienti da Cuba. La Calabria, dice Anelli, è la Regione in cui c'è il maggior disagio per la professione medica, sia per le strutture che per i professionisti. Chiediamo alla Regione di riferirsi in ogni caso alla lunga esperienza del Ministero in questo campo per i meccanismi di verifica. Soprattutto quest'ultima dichiarazione di Anelli fa riferimento alla deroga di legge rispetto ai riconoscimenti dei titoli che, secondo il Presidente Anelli, potrebbe portare anche ad un abbassamento del livello di qualità delle prestazioni sanitarie. Vi invito a leggere il Corriere della Calabria che ha raccolto diversi pareri favorevoli e meno favorevoli all'azione del Governatore occhiuto. Restiamo nel campo della sanità per darvi conto dei numeri del Covid. si svuotano ancora i reparti in Calabria, meno 21 ricoveri rispetto a ieri. Sono 1.500 i nuovi infetti, quasi 69.000 quelli attualmente positivi, oltre 51.000 in provincia di Cosenza. Tre ricoveri in meno anche nel reparto di rianimazione. Buone notizie dunque quest'oggi. Andiamo a parlare invece della scuola perché sono 150.000 i supplenti che in tutta Italia, nonostante il piano di assunzioni, attendono ancora di conoscere il proprio futuro. però sono in arrivo le prime riforme. Si avvicina per circa 7,4 milioni di studenti italiani il giorno del ritorno tra i banchi di scuola. Si parte in base al calendario d'avvio deciso dalle singole regioni in Calabria il 14 settembre. Non solo studenti. A tornare in aula saranno anche gli insegnanti. In tutto, 850.000 inclusi gli almeno 150.000 supplenti attesi anche quest'anno, nonostante le sette procedure di assunzione previste nei mesi scorsi. Il Governo ha infatti autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato di 94.130 docenti. Ad oggi sono stati assunti circa 30.000 insegnanti. Si chiuderà, secondo le stime, al 50-60%. Nonostante quindi le sette diverse procedure assunzionali previste dal Governo, si stimano non meno di 150.000 cattedre da assegnare ad un supplente. Ma le attuali procedure anche quest'anno non stanno facilitando la vita agli aspiranti insegnanti con gli immancabili errori nei punteggi e troppi intoppi informatici. Tutto ciò con ripercussioni non solo sul corpo docente ma inevitabilmente anche sugli studenti. Ma in Calabria qual è la situazione? La procedure si è conclusa il 16 di agosto. Da quello che sappiamo, non prima del 28-29 agosto si avrà un esito, un primo esito, un primo turno perché il sistema è cambiato dall'anno scorso, è tutto informatizzato, non c'è più la convocazione in presenza e quindi è un computer a gestire le supplenze annuali. Quest'anno tra l'altro, devo dire che dopo 20 anni, tutti gli scolacci di concerto con il regionale hanno pubblicato le assegnazioni provvisorie entro il 12 di agosto per quanto riguarda i posti di sostegno e entro domani pubblicherà invece quelli sui posti comuni, sulle classi di concorso e sui posti normali. Una cosa che in Calabria non era mai successa prima e questo è un fatto importante secondo me perché il fatto di andare a lavorare prima questo tipo di operazioni permetterà sicuramente alla fine di agosto e al fine di settembre di poter andare ad occupare con i supplenzi quelli che sono i posti vacanti e permetterà così il regolamento dell'anno scolastico. E con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione termina qui, grazie per la cortese, attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.